Amici sportivi, buongiorno dal comunale di Mugnano del Cardinale, la crevente Stefanile che vi parla per raccontarvi le sorti dell'incontro di calcio dal rinascita marzanese e il rione San Giacomo, seconda giornata di campionato del campionato provinciale di terza categoria Girone A. Le squadre stanno procedendo al discardamento, alle ore 9 inizia la partita. La formazione ufficiale del Mazzano vede nei pali in muto, la difesa con Nappi, Sepe, Cagliazzo poi Moshiano, poi il centrocampo con Torto, Iovino, Ferrante e in avanti le punte Addeo, Saverio e Addeo e Rico. Abita il signor Pammese di Ariano Il Irpino, a risentirci, fa poco quando le squadre scenderanno sul terreno di gioco. Continua a procedere ai riscaldamenti della sconca, stanno entrando anche i panchinali in questo preciso istante sul terreno di gioco. Faccio una foto, facciamo un po' per me gioco. No, qui devo firmino, faccio un po'. Grazie